Sta per iniziare Ottobre Blu 2014, la manifestazione che da sei anni porta a Chioggia le più prestigiose navi della marina militare, ci fa scoprire la bellezza del mare, racconta le straordinarie avventure di uomini e mezzi navali, ci trasporta nella vera cultura marinaresca. Dal 14 al 19 ottobre Chioggia sarà il centro di eventi, spettacoli, manifestazioni culturali e sportive che coinvolgeranno la città e il suo porto, attirando migliaia di turisti e visitatori. Un evento che si realizza da sempre grazie allo sforzo organizzativo ed economico dell'ASPO, Camera di Commercio di Venezia, della marina militare con la collaborazione del comune di Chioggia e il fondamentale supporto delle associazioni e delle realtà imprenditoriali locali. Una manifestazione che nasce con lo scopo principale di promuovere il porto di Chioggia nella sua globalità e che è divenuta da sempre un'occasione per valorizzare la città di Chioggia e l'intero territorio. La sesta edizione di Ottobre Blu, Donne da mare, è dedicata alla figura della donna di mare, al suo ruolo nella tradizione storico marinaresca, ma anche sociale, culturale e lavorativo. Si potranno visitare le mostre tematiche, seguire convegni e incontri culturali, partecipare a spettacoli ed eventi sportivi, visitare a bordo la fregata della marina militare Espero. Tutte le informazioni sulla manifestazione, programma ed orari di visita sono a disposizione sul sito www.ottobreblu.it. A Chioggia ancora un ottobre tutto blu, imperdibile.